Allora Presidente, una vittoria per 2-1 col Meldola in casa, una vittoria importante che ci consente di andare a Meldola con un piccolo ma seppur significativo vantaggio. È stata una buona partita da entrambe le squadre, noi abbiamo fatto buona partita nel primo tempo, nel secondo tempo siamo un attimino calati, colpa anche del campo che era ingiocabile, era tutto mota per cui ne abbiamo sicuramente risentito, però credo che dobbiamo essere fiduciosi perché la squadra si è mossa molto molto bene, partiamo da un esiguo vantaggio ma partiamo da un vantaggio, questo deve essere massimizzato e dobbiamo andare a Meldola sereni e tranquilli perché fra le due la squadra più forte siamo noi. Ecco, Brega Granito continuano a segnare, hanno superato quota 50 gol e se vado a memoria mi sembra siano 55 gol in due. Ma indubbiamente sono due attaccanti che io giudico di categoria superiore, per cui sono convinto che su un campo asciutto o su un fraseggio possiamo sicuramente far gol. Poi partiamo da un piccolo vantaggio, sullo 0-0 passiamo noi, la partita la dovranno far loro e noi potremmo sfruttare Pieroni, Tamberi, Brega Granito in contropiede, per cui sono convinto che possiamo passare questo turno. Ecco, siamo arrivati a 10 vittorie consecutive, dall'ultima giornata di andata del campionato ad oggi sono 10 vittorie consecutive, una squadra che quando c'è impegni importanti fa sempre grandi prestazioni. È indubbio che tutto questo fa piacere, però è indubbio per chi è alla guida di questa società deve massimizzare, massimizzare vuol dire andare in Serie D, per cui noi metteremo un punto fine solo ed esclusivamente quando la matematica ci darà certezza, sia attraverso la Coppa Italia sia attraverso il campionato. Io credo che la ciliegina sulla torta può essere la Coppa Italia, l'obiettivo a questo punto deve essere il campionato, per cui dovremmo giocare tutte le partite sereni e tranquilli, perché l'obiettivo a questo punto non ci deve sfuggire. Poi le 10 partite, le 11, le 12, sono tutti record che rimangono negli annali, ma l'obiettivo deve essere solo ed esclusivamente quello.